Buonasera e bentornati in diretta. Siamo pronti per una nuova puntata di Primo Cittadino, come vi ha annunciato il direttore Marco Ferri nel corso del nostro telegiornale Occhio alla Notizia, l'ospite di questa sera è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Buonasera sindaco, bentornato. Buonasera a tutti. 0721 86 14 33 è il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, alle vostre domande al primo cittadino, ma potete inviarci anche un messaggio pure con whatsapp al 338 49 68 250. Sindaco purtroppo oggi le marche hanno cambiato colore, sono ritornate in zona arancione, preoccupano i contagi, preoccupano le varianti. Lei già sabato scorso aveva lanciato un appello al governo anche per chiedere un accordo a livello nazionale per eseguire più controlli, più tamponi negli istituti scolastici e salvare anche l'ANU. Tra l'altro era dell'idea di concentrarsi magari sulle chiusure ad Ancona, nella provincia di Ancona e salvare magari le altre. Oggi è stata impugnata addirittura l'ordinanza regionale che riguarda la didattica a distanza, è stata impugnata al Tar delle Marche. Come legge questa notizia e che cosa è successo secondo lei? Ma intanto noi purtroppo dobbiamo registrare che la campagna di vaccinazione sta proseguendo ma ha dei ritmi più lenti rispetto a quelli che tutti noi ci auguravamo. Questo a mio parere rende ancora più importante il tema dello screening perché è evidente che è fondamentale fare i vaccini nel più breve tempo possibile. Oggi Draghi ha anche cambiato il commissario proprio per provare a innescare un meccanismo organizzativo, speriamo più snello, sperando che le forniture arrivino davvero in maniera più massiccia rispetto agli ultimi giorni. E questo è un problema ovviamente italiano. Credo anche che sulla vaccinazione nelle Marche si potesse fare qualcosa di meglio, nel senso che dovremmo, a mio parere, dovrebbero fare la vaccinazione in più comuni contemporaneamente. L'aver concentrato la vaccinazione degli ottantenni soltanto a Pesaro, Fano ed Urbino sta creando diversi problemi e disagi soprattutto nelle aree interne per gli spostamenti perché stiamo parlando ovviamente di ultrottantenni e quindi di persone che spesso e volentieri non guidano, che devono essere accompagnate, che hanno problemi anche magari fisici, di salute. Quindi credo che avrebbero dovuto organizzare più punti per la vaccinazione. Però detto questo, poi sulla vaccinazione credo ci torneremo, a maggior ragione se il tempo per la vaccinazione si allunga abbiamo bisogno di aumentare gli screening, cioè i controlli con i tamponi veloci. Fra l'altro i tamponi veloci ormai sono quasi equiparati ai tamponi molecolari. Le Marche ne ha un numero esorbitante perché hanno centinaia di migliaia di tamponi chiusi in magazzino, inutilizzati, e dalle feste di Natale che diciamo bisogna fare i tamponi nelle scuole perché anche una statistica di oggi dice che sono cresciuti molto i positivi nelle fasci più giovani e quindi fare i tamponi nelle scuole consente di riaprire la scuola in sicurezza. Come avete seguito credo dalla cronaca, prima avevano letto di sì, poi avevano letto di no, poi lo facciamo noi, non lo facciamo noi, lo fate voi, vi diamo i tamponi, alla fine non ci andate i tamponi ne abbiamo voluto fare da soli. L'abbiamo fatto per la prima volta, ripeteremo lo screening giovedì e venerdì, giovedì e venerdì il mattino saremo nelle scuole medie, quindi si farà lo screening nelle scuole medie a ragazzi e insegnanti e operatori scolastici. Il pomeriggio invece, il pomeriggio di giovedì potranno fare il tampone veloce tutti gli insegnanti da l'infanzia, dai nidi l'infanzia e le scuole alimentari e invece il venerdì pomeriggio potranno farlo gli studenti delle scuole superiori e gli insegnanti e gli operatori scolastici delle scuole superiori. È importantissimo fare un controllo periodico, per questo noi abbiamo detto alla regione sbagliate, state continuando a sbagliare, non è possibile che la prima cosa che fate è chiudere nel momento in cui c'è un problema nelle scuole, se Ancona questa chiusura si giustifica perché ci sono dei dati, diciamo, oggettivamente molto preoccupanti. Tant'è che rimarranno chiuse fino al 14 maggio. Esatto, in altre province no, per fortuna ancora da noi i dati sono abbastanza sotto controllo, ovviamente incrociamo le dita e teniamo la guardia alta, però la risposta non è chiudere, la risposta è fare i tamponi, poi se fatti i tamponi, la situazione esplosiva e ovviamente c'è la chiusura, ma la chiusura deve essere l'ultima razio, non la prima cosa che si fa. Fino alla settimana scorsa volevano riaprire tutto, riapriamo i ristoranti, riapriamo i bar, riapriamo gli impianti scistici, riapriamo tutti e poi la prima difficoltà si chiude di nuovo la scuola, senza fare i tamponi, perché se avessero fatto i tamponi, a quel punto anche i tamponi non avrebbero dato la risposta necessaria, a quel punto si chiude. Ma la chiusura delle scuole deve essere l'ultima razio. Inoltre, questo problema io lo posto anche a livello nazionale, perché Draghi durante il suo insediamento ha detto che la scuola è in presenza, dobbiamo recuperare la scuola in presenza, dobbiamo fare di tutto perché i nostri ragazzi vanno a scuola in presenza e ovviamente se non fai i tamponi nelle scuole, periodicamente, appena risalgono i casi, le prime cose che fanno i governatori regionali è chiudere le scuole. Quindi l'appello che faccio è alla Regione Marche, anche se, devo dire la verità, è due mesi e mezzo che mi sgolo e sto perdendo la speranza. Ha trovato un po' il muro o comunque un colloquio abbastanza ragionevole? All'inizio era ragionevolissimo, io avevo già fissato, avevamo ipotizzato già la data della conferenza stampa per presentare l'iniziativa insieme con l'assessore Saltamartini, poi improvvisamente è cambiato tutto, probabilmente prevalcia la politica, non so che ragionamento hanno fatto, ma al di là del ragionamento che hanno fatto, hanno fatto un errore e io credo che dovrebbero recuperare questo tema dello screening in tutte le Marche, perché a Pesaro lo facciamo, perché il Comune si è caricato questa cosa, abbiamo trovato delle risorse, l'AIL e la Croce Rossa ci danno una mano, abbiamo trovato i medici, abbiamo trovato gli infermieri, ma tutti gli studenti delle Marche hanno, a mio parere, il diritto di andare a scuole di sicurezza per loro e per le proprie famiglie. A mio parere dovrebbe essere una cosa da fare anche in tutta Italia, per questo l'appello che ho fatto e a Draghi, perché altrimenti l'anno scolastico, a mio parere, andando avanti così, non si finirà in presenza, perché senza un controllo nelle scuole, quando c'è una difficoltà, la prima cosa che fanno tutti è chiudere le scuole. Qual è da noi la situazione, Sindaco? In provincia, ma anche da noi a Pesa? La situazione oggi, diciamo, ancora da noi è abbastanza sotto controllo, però ovviamente siamo preoccupatissimi perché siamo circondati, cerco di ritrovare gli ultimi dati, in questo momento in tutta la provincia di Pesaro ci sono 1488 positivi, questo è il saldo tra i positivi e i negativi che ogni giorno si registrano, Pesaro città sono 337, quindi il dato ancora è buono se pensiamo che a metà gennaio eravamo a 630-640 e quindi diciamo è dimezzato rispetto alla metà di gennaio. Il problema però qual è? Che tra le province con maggiore incidenza di casi nell'ultima settimana, in Italia la più colpita è Rimini e la terza è Ancona e quindi noi siamo in mezzo, in questo momento, a due delle province che in Italia stanno crescendo di più, probabilmente a causa delle varianti, varianti inglesi e le altre varianti e quindi dobbiamo a maggior ragione tenere la guardia alta, evitare rispettare le regole, fare di tutto perché questi dati non si modifichino più di tanto, ovviamente credo che anche da noi andremo verso un andamento di crescita, spero non tale da dover fare ulteriori ristringimenti, al momento noi avremo dati da zona gialla, tranquillamente da zona gialla, tutta la provincia di Pesurubino sarebbe gialla, siamo diventati arancioni perché il resto delle province marchigiane e soprattutto Ancona e parzialmente Macerata hanno dei dati abbastanza preoccupanti. Quindi l'unica cosa da fare e che ci rimane sono appunto questi vaccini. Oggi tra l'altro non sono partiti quelli del personale scolastico. Sono uno che pensa che addirittura il vaccino debba essere obbligatorio, comunque si debba fare un patentino di obbligatorietà se tu vuoi vivere insieme agli altri in luoghi di aggregazione, quindi immaginatevi. Il problema però adesso è che i vaccini non ci sono abbastanza. Quindi immunità di greggio prima dell'estate forse è impossibile? Non lo so, però se già prima dell'estate riuscissimo a vaccinare tutte le persone che più di altre rischiano la vita, già saremo abbastanza tranquilli, nel senso che la parte più giovane della società difficilmente riusciremo secondo me a vaccinarla prima dell'estate. Ma la parte più adulta, sì, ottantenni, settantenni, sessantenni, se già riuscissimo a arrivare diciamo più o meno alla mia generazione avremmo vaccinato secondo me le persone che hanno maggiori rischi dal punto di vista statistico se si ammalano. E anche per questo nelle scuole vanno fatti i vaccini, perché fino ai 16 anni vanno fatti scusate i tamponi, perché fino ai 16 anni i ragazzi non verranno vaccinati per scelta sanitaria e immagino che i 17 anni, i 18 anni, i 19 anni saranno gli ultimi ad essere vaccinati. Bene hanno fatto, in questo caso la Regione Marche secondo me ha fatto bene a mettere priorità degli insegnanti, tant'è che è iniziata la vaccinazione degli insegnanti, secondo me questa è stata una scelta della Giunta regionale positiva, quindi quando fanno cose positive come lo screening generale sono sempre stato il primo a dirlo, ma gli studenti non verranno vaccinati entro l'anno scolastico, una parte perché non potranno essere vaccinati, gli altri perché arriveranno dopo e quindi che facciamo? Teniamo chiuse le scuole fino alla metà giugno perché non facciamo i controlli nelle scuole? Quanto ci vuole ad organizzare una volta al mese uno screening? E non mi si dica più che il problema è il personale, perché a Pesaro non è che lo screening e i tamponi veloci li fanno gli usceri del comune o gli operai del centro operativo, li fanno medici e infermieri che grazie all'Aile e alla Croce Rossa vengono organizzati e coordinati, quindi se li abbiamo trovati noi i medici e gli infermieri li potete trovare anche la Regione Marche in tutta la Regione. Volere potere, dice lei? A volte volere non è potere, però diciamo volere spesso e volentieri aiuta, in questo caso non si è voluta fare un'operazione che era alla portata, io temo esclusivamente perché la proposta è venuta da parte del sindaco di Pesaro. Non si può ragionare così quando si parla dal punto di vista istituzionale e quando si parla soprattutto di scuola e di salute. Chiedono a quando i vaccini per chi ha delle patologie? Beh sicuramente verranno probabilmente prima di altre categorie. Da quello che ho capito la prossima turno i settantenni e coloro che hanno invalidità, malattie particolari, dovrebbe essere questo. Però anche su questo c'è parecchia confusione. Ancora noi non abbiamo un cronoprogramma, tant'è che abbiamo individuato un luogo per la vaccinazione a Pesaro, che è il centro sociale Pino Monaldi alla Celletta, che a mio parere è troppo piccolo, tant'è che stiamo cercando altri posti più grandi. Forse gli ottantenni, con gli ottantenni ce la caviamo, può darsi che riusciamo a farli in quel luogo, ma già quando scenderemo di età e si allargerà la popolazione interessata avremo bisogno di posti molto più ampi. Noi stiamo chiedendo una programmazione in modo tale da far sì che i comuni possano collaborare mettendo a disposizione luoghi più grandi e soprattutto grazie alla collaborazione dell'associazione degli industriali stiamo cercando anche capannoni industriali che possano essere messi a disposizione per la grande campagna di vaccinazione. E c'è già anche qualcuno che sta avanzando delle proposte? Sì, sì, l'ABS stessa è stata la prima, abbiamo contatti con gli imprenditori Fulgini che ha un capannone interessante e devo dire che lo stesso Presidente degli Industriali si è messo a disposizione per verificare se ci sono capannoni disponibili, ovviamente fuori liberi da attività produttive che possono aiutarci perché abbiamo bisogno di grandi spazi. Ad esempio il Pino Monaldi è un luogo organizzato bene, però a mio parere io ho fatto un soprallogo l'altro giorno un po' compresso, se non piove va bene, io temo che alla prima pioggia qualche problema potrà venire fuori, quindi ho chiesto ai miei assessori di individuare un luogo più grande, già da adesso, perché se l'ASUR lo riterrà necessario siamo anche pronti a spostarci in un luogo più grande. Buonasera, vorrei sapere perché non si parla mai delle associazioni dei circoli chiusi da ottobre, volevo solo avere un parere del Sindaco, si vede in giro tanto assembramento, locali che fanno asporto per modo di dire ed è una vergogna. Ma proprio oggi abbiamo approvato in giunta una delibera che dà un contributo a questi circoli che sono chiusi da una vita, credo che saremo uno dei pochi comuni in Italia a farlo, effettivamente i circoli sono stati molto colpiti come tante attività, ma i circoli di più perché quando siamo in zona gialla i bar riaprono, i ristoranti ugualmente e i circoli no perché vengono considerati luogo aggregativo, ma una parte dei circoli ha attività diciamo a bar all'interno che sono attività private esattamente come quelle che non sono dentro i circoli. Quindi c'è questa discriminanza, è una discriminanza nazionale, abbiamo cercato di dare una mano e oggi abbiamo approvato una delibera che darà un minimo di sostegno a questi circoli anche qui con risorse del Comune di Pesaro. Noi davvero stiamo facendo uno sforzo straordinario per andare incontro ai cittadini, bonus pesa, bonus bambini, bonus pesa tre volte li abbiamo fatti, un fondo anticrisi di 400.000 euro che è in corso, è aperto in questo momento per aiutare le famiglie a pagare le bollette, a pagare l'affitto e quindi invito tutti ad andare sul sito del Comune, chi ne ha bisogno e fare la domanda perché più o meno arriveranno 1.000 euro a famiglia, circa 400 famiglie avranno 1.000 euro di sostegno e di media. E poi abbiamo stanziato 500.000 euro per l'Atari, per le attività più colpite, bar, ristoranti, alberghi, agenzie viaggio, palestre e in questo caso rimborseremo tra il 40 e il 50% dell'Atari pagata nel 2020, l'intero pagamento del 2020. Quindi stiamo parlando anche qui di risorse importanti. Ce la stiamo mettendo tutta, stiamo cercando di risparmiare ovunque e di utilizzare al meglio le risorse che lo Stato ci ha dato nel 2020 per le minori entrate che abbiamo avuto come amministrazione comunale. Prima di andare avanti con i messaggi dei cittadini, visto che ha tirato fuori questo discorso, le chiedo se ha saputo e che cosa ne pensa della battaglia che sta portando avanti il sindaco di Fano Massimo Seri, il quale parla di una distribuzione non equa dei fondi dello Stato perché sostiene il fatto che molte risorse siano destinate esclusivamente ai comuni capoluogo. Ma fa bene, è una campagna che mi ha anche in qualche modo invitato a seguire come presidente di Ali, come membro anche dell'ufficio di presidenza di Anci e quindi è una battaglia giusta perché abbiamo bisogno, in questi anni abbiamo lavorato molto sui piccoli comuni e c'è tantissimo da fare perché abbiamo situazioni di piccoli comuni davvero difficilissime. Però effettivamente a volte spuggono dal radar delle città italiane città vere, cioè città che hanno decine di migliaia di abitanti ma che non sono capoluogo. E a volte capoluoghi più piccoli di Fano magari hanno un vantaggio in più rispetto a Fano stessa che comunque è una città di quasi 60.000 abitanti. Quindi è una battaglia giusta quella che Massimo fa che non riguarda solo Fano ma riguarda decine di città italiane e medie che magari non rientrano a volte come dovrebbero dentro la ripartizione di risorse nazionali. Due messaggi per lei. Ciao Matteo, nella tua partecipazione primo cittadino del 5 ottobre scorso avevi detto che avevi presentato al CONI un progetto per un circuito con spese a loro carico. In caso di rifiuto avresti proseguito a spese del comune. Ti chiedo che punto si trova. Scusami ma fa risollevare il ciclismo giovanile. E ancora chiedono l'anello per i ciclisti quando partirà, se in primavera come ha detto l'assessore Belloni. Sempre la stessa cosa. Aspetta, guardo perché ho mandato proprio prima. Non mi ha ancora risposto. Allora, la questione è questa. Noi abbiamo avuto l'ok dal Ministero dello Sport per un finanziamento per l'impianto ciclorotellistico. L'impianto complessivamente costa un milione e mezzo. Dobbiamo capire se ci danno il milione e mezzo ci danno 850 mila euro. Questa è l'incognita che ancora non è stata definita. È rimasta appesa questa decisione perché nel frattempo è cambiato il governo. Siamo in attesa della nomina del nuovo delegato allo Sport. Quindi non c'è più il Ministro Spadafora. Non c'è il Ministero dello Sport. Lo Sport è una delega che verrà assegnata al sottosegretario ma ancora non c'è il sottosegretario. Quindi diciamo che è un provvedimento che ha la firma. Appena ci sarà il sottosegretario verrà firmato. L'incognita che abbiamo è questa. Se mettono un milione e mezzo mettono 850 mila. Se dovessero mettere 850 mila noi ci siamo già impegnati come Comune a mettere il resto. Quindi siamo a un passo decisivo. Spero nelle prossime settimane di poter comunicare qualcosa in più dal punto di vista ufficiale e magari anche la tempistica. Nel frattempo sul progetto si sta andando avanti. Quindi confido di poter recuperare il ritardo su questo tema e con l'impianto ciclorottellistico anche di completare nel mio mandato anche gli vari interventi negli impianti sportivi perché davvero stiamo intervenendo ovunque e questo tema del ciclismo e anche del pattinaggio era una delle cose che mancava. Spero nelle prossime settimane di dare informazioni più ufficiali rispetto a quello che ho dato però come avete capito siamo in dirittura d'arrivo. Abbiamo tanti messaggi interessanti per lei ma abbiamo anche una telefonica. Buonasera, chi c'è in linea? Volevo chiedere al sindaco sul fatto che la nostra città è senza dubbio più bella grazie soprattutto alla sua attività però noto che la macchina amministrativa non sempre lo ha secondato e mi riferisco in particolare alle vende partecipate prendo ad esempio l'Aspes l'Aspes si occupa di molte cose forse a mio modesto parere di troppe cose ma rimanendo al suo compito originario che era quello del verde noto che questo settore non riceve le cure che merita tanto per andare poi sul concreto ci sono delle vie che sono prime di alberature ed è brutto veramente tanto per fare un esempio ancora più nel concreto cito Viale Trieste che è il viale con più alto tasso di visibilità turistica bene, mi sono preso la briga di contare quante sono le aiuole prive di alberi sono una quarantina, un'enormità che non sarebbe nulla se non divenisse se non queste aiuole non fossero poi diciamo il deposito di immondizie varie e questo non va bene mi stupisce perché vedo devo dire molto spesso il suo presidente il presidente Aspes sempre molto presente sui media quando si tratta di inaugurazioni io vorrei, auspicherei che fosse molto più presente anche su quello che è le manutenzioni anzi lei aveva lanciato una proposta sindaco, quella di un'app con la quale poi, come dire raccordarsi con Aspes per l'intervento questo ancora non l'ho visto come si fa per le buche diciamo le buche la sta usando quella delle buche? prego scusami quella delle buche la sta usando? sì sì io la uso e devo dire che gli effetti cioè è noto con piacere che nel momento che si fa diciamo la denuncia di una buca diciamo e subito interviene Mobility Pro e devo dire che il servizio è efficiente ecco vorrei che ecco magari migliorare un po' sul verde no no ma è importante questo tanto grazie allora sull'app a me piacerebbe applicarla anche al verde volevo adesso faremo un po' un bilancio con questo covid purtroppo siamo travolti dalle emergenze quotidiane dai cambi di norme quindi però volevamo fare un po' un bilancio a un anno credo siamo adesso a un anno dall'app buche buca si chiama per vedere se le persone la usano che riscontro hanno eccetera e se possiamo applicarla ad altro quello del verde è sicuramente un tema sulla quale applicarla quindi prendo lo spunto dal telespettatore per vedere di provare a allargare quell'esperimento anche al tema del verde su Viale Trieste allora gli alberi a Pesaro ne stiamo piantando anche molti da molte parti stiamo lavorando molto sui boschi urbani perché Società Autostrada dovrà realizzare dei boschi urbani se ne sta occupando in particolar modo il consigliere Gambini insieme all'assessore Belloni ovviamente ad altri e quindi andremo a piantumare un sacco di alberi questo è importante per le CO2 e in generale appunto per il verde in città per quello che diceva l'arredo urbano in Viale Trieste in genere i lavori sulle piante e la piantumazione viene fatto in primavera quindi immagino che molti di quelle aiuole libere che vede saranno riempite nel giro di poco da piantumazioni nuove soprattutto con l'arrivo della primavera e comunque lo mattina lo verifico subito dall'altra devo dire che a me gli alberi in Viale Trieste non piacciono non piacciono da sempre quando sono diventato sindaco ho provato anche a dire se potevamo piantare delle palme o alberi più prestigiosi però mi dicono gli agronomi gli esperti quindi che da noi nel periodo invernale tira la bora arriva la bora e quindi molte piante morirebbero l'inverno e quindi quegli alberi che ci sono che non sono il massimo sono tra i pochi che resistono al vento e quindi la differenza tra noi e San Benedetto molti si dicono questo è che a San Benedetto non arriva frequentemente o come da noi la bora da nord quindi arriva probabilmente se arriva arriva meno e arriva meno intenso quindi dobbiamo tenerci quegli alberi però almeno piantarli come dice lei dove mancano e quindi domani cercherò di capire meglio qual è la programmazione del verde e anche io penso che nonostante che Aspes stia facendo un buon lavoro secondo me e nonostante che la Marche Multiservizi stia facendo un buon lavoro la Marche Multiservizi dovrebbe tenere la città ancora più pulita e Aspes può fare ancora meglio quindi io non mi accontento mai e giustamente i cittadini ce lo fanno rilevare Sindaco stanno arrivando tantissimi messaggi prometto di leggerli spero tutti ma dobbiamo andare con il chiestante pubblicità a tra poco Bene siamo di nuovo in diretta con il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci inizio subito con un messaggino un po' a lungo vorrei chiedere al Sindaco Ricci perché ha riscontrato tanta mancanza di collaborazione da parte della Regione riguardo alla disponibilità di tamponi mirati per le scuole a Fossombrone ci dice i test a tappeto hanno trovato una percentuale bassissima di positivi mentre i casi sospetti tra i bambini fanno fatica ad essere monitorati in taluni casi hanno dovuto recarsi di persona fino a Fano per non parlare della didattica a distanza sia a gennaio in zona gialla sia ora agli superiori anche non in zona rossa una vera viatura per gli studenti e ancora gli impianti per la reazione a marzo a che cosa dovrebbero servire siamo sempre con le finestre aperte e andiamo verso le temperature ancora migliori lo faccio presente in Regione le dicono sì beh gli impianti di ariazione alla fine secondo me serviranno in generale anche nei prossimi mesi nelle scuole nei prossimi anni comunque saranno quelle innovazioni che introdotte nella scuola nell'edilizia scolastica che miglioreranno sicuramente la qualità della scuola la qualità degli uffici a me ne regalano ogni tanto viene qualcuno a propormi delle iniziative l'altro giorno me ne hanno regalato uno lo tengo in ufficio quindi di certo questi meccanismi sicuramente favoriscono favoriscono il miglioramento dell'aria anche se a volte aprire le finestre è la cosa più semplice che si può fare anche forse è la più efficace e sui tamponi ho detto prima è inspiegabile non l'hanno voluta fare perché l'ho proposta io è inutile che ci giriamo intorno perché non c'è un motivo ragionevole per non farlo lo screening generale che avevano fatto aveva dato a mio parere un'efficacia ridotta e lo screening di comunità non è che me lo invento io lo suggerisce il ministero della salute non mi sono ricordato st'altra volta ve la porto c'è un'indicazione del ministero della salute che che spinge le regioni a fare screening di comunità nelle scuole nelle aziende nelle società sportive cioè in tutti i luoghi che fanno comunità perché più lo screening è fatto nelle comunità è più efficace non a caso c'è stata da noi anche una partecipazione nella scuola superiore molto alta molto diversa dalla buona partecipazione che c'era scatta sullo screening generale dei cittadini che devo dire io non so più non so più che dire cioè l'abbiamo fatto anche con le nostre forze per dimostrare che serviva gli abbiamo richiesto se lo facevano ci hanno risposto di no lo rifacciamo da soli io più di così non so non so che fare andiamo anche nelle scuole media quindi lo facciamo anche nelle scuole media più di questo sinceramente non so che fare spero che prima o poi mettano da parte la politica la campagna elettorale che è finita da un bel pezzo e inizino a collaborare se un'idea buona viene da un amministratore che magari politicamente la pensa diversamente e che diamine la si prenda buona e la si faccia insieme non si può ragionare così è un errore è un orrore tra l'altro ho scoperto che non sono neanche l'unico sindaco perché l'ha fatto il sindaco di Monbaroccio l'ha fatto il sindaco di Civitanova se non sbaglio l'ha fatto un altro sindaco in alcuni casi i tamponi gli aveva dati la ragione Fabriano era? no, su delle Marche non mi ricordo però voglio dire non è che ci vuole un genio per capire che è una cosa che serve penso che ripeto non ci siano altre parole da aggiungere c'è grande amarezza perché eravamo ripeto già pronti a fare la conferenza stampa con l'assessore alla sanità e un botta risposta c'era stato anche in merito all'ospedale e abbiamo una domanda che le vuole porre un cittadino che è al telefono in questo momento buonasera buonasera allora io chiamo a San Lorenzo in campo la mia domanda anzi più di una domanda riguarda anche l'eventuale futura realizzazione dell'ospedale di Marche Nord come cittadino diciamo a confine con la provincia d'Ancona certo pensare un ospedale Marche Nord al servizio di tutta la provincia di Pesaro mi trovo un po' in difficoltà nel pensare che questo ospedale possa servire soltanto a tutta la provincia e se si vuole ricercare veramente l'eccellenza secondo me potrebbe essere più che sufficiente avere l'eccellenza che abbiamo a Torrette come ospedale regionale questa è la prima osservazione la seconda quindi il Pesaro come ospedale Marche Nord non è sicuramente baricentrico per tutta la provincia si è discusso tanto per l'altra soluzione di vederlo nella zona di Fano quindi l'ex Oceano e sicuramente nessuno può dire il contrario era un'osservazione che non ha tema di smentite che Fano sicuramente zona chiaruccia è da preferire rispetto a a Muraglia dove Muraglia stesso per anche questo lo dico anche per diciamo per la mia attività professionale non è sicuramente da scegliere per il discorso delle problematiche geologiche e geomorfologiche questa è la mia osservazione infatti sarebbe anche oggetto di discussione questa sera piccole risposte da parte del sindaco grazie buona serata e buon lavoro grazie a lei intanto si è passati dall'ospedale unico a un ospedale nuovo allora intanto l'ospedale nuovo prevista a Muraglia è baricentrico nella provincia poi è vero che la vallata del Cesano il telespettatore se non sbaglio di San Lorenzo in campo è molto orientata sull'Anconetano e probabilmente un cittadino di San Lorenzo in campo se non trova la risposta adeguata a Fano dico l'ospedale più vicino va a Dancona il problema è che il resto della provincia se non trova una risposta adeguata va in Emilia Romagna questo è il dato statistico che non mi invento io che da vent'anni è così negli ultimi dieci anni è peggiorato notevolmente perché tutti coloro che nella provincia di Pesururbino togliamo la vallata del Cesano diciamo ma vallata del Metaura e vallata del Foglia quindi le due vallate principali se non trovano una risposta nella provincia e a Rinterno ovviamente se non trovano una risposta nella provincia 8 su 10 vanno in Emilia Romagna Rimini Bologna Faenza Cotignola e addirittura vanno a Milano e quindi ci vanno per le malattie diciamo più importanti per interventi più importanti e questo fra l'altro a discapito di tutti i marchigiani perché se un pesarese o un fanese o un cittadino di Vallefoglia va a curarsi a Rimini pagano tutti i marchigiani cioè fino ad Ascoli Piceno pagano per andarci a curare fuori per questo è stato si è detto serve un ospedale a nord di eccellenza con delle eccellenze per frenare la mobilità passiva cioè se stiamo esclusivamente alla mobilità passiva l'ospedale deve essere posizionato all'estremo nord della provincia quindi tra Pesaro e Gabiccia diciamo per capirci poi si è scelto una posizione più baricentrica soprattutto guardando la popolazione anche se c'è chi dice che è chiaruccia in realtà quella più baricentrica c'erano state ricordate di discussione basta conoscere la provincia la popolazione tra Pesaro e i comuni intorno a Pesaro ci sono 150.000 abitanti quindi voglio dire non è che i dati purtroppo sono questi tant'è che tutti gli studi hanno portato poi a Muraglia qualcuno diceva Fossossiore ma Fossossiore era un'area privata quindi non ci si spostava da lì detto questo comunque Muraglia è pubblica ed è una scelta fatta quindi non si può ritornare sempre indietro riaprire le discussioni 10 anni di discussioni 15 anni di discussioni e non si fa nulla allora siccome è stata troppo lunga la vicenda e siccome è stata fatta una scelta adesso bisogna farla la regione ha detto no al project financing a noi del project financing non interessa niente il project financing è un meccanismo per realizzare l'ospedale facendolo fare ai privati e poi dando ai privati un canone per i servizi che svolge all'interno dell'ospedale in modo tale che il privato recupera negli anni l'investimento fatto e gestisce i servizi quello strumento la regione non lo vuol fare bene a noi non interessa l'importante è che lo facciano ci sono delle risorse nazionali stanziate su quell'ospedale ferme la regione aveva messo delle proprie risorse ne vuol mettere di più si prende un mutuo e non si fa il project a noi va benissimo l'importante è che si faccia che cosa si sta attendendo sindaco non lo so la volontà politica anche qui ho riscritto di nuovo io fra l'altro sono abituato a livello nazionale a lavorare con gli sms con il whatsapp con i ministri con i sottosegretari con la regione devo mandare le lettere in carta bollata ormai quindi caro presidente ho bisogno di un incontro sull'ospedale poi mi risponde la settimana successiva abbiamo preso nota della domanda che ha fatto la faremo sapere il primo faccio prima incontrare Mattarella che incontra le acquaroli va bene uguale siamo sulla formalità l'importante è che ci diano l'incontro per dirci che cosa vogliono fare perché non possiamo rimanere fermi e non possiamo aspettare il nuovo piano socio-sanitario che vogliono fare perché ci vogliono due anni per fare il piano sanitario non possiamo tenere fermi gli investimenti e fermare la sanità significa andare l'indietro quindi che cosa vogliono fare il project non lo vogliono bene qualche assessore sentivo Augusti l'altro giorno sui giornali dicevano noi vogliamo realizzare l'ospedale nuovo di Pesero e rimane il Santa Croce io non la ritengo un'opzione valida perché comunque un'azienda sanitaria la mantieni su due plessi però se questa è la scelta ci dicano davvero se lo vogliono fare in che tempi lo vogliono fare come lo vogliono fare non possiamo far passare i mesi i mesi i mesi non succede nulla quindi approfitto anche questa sera per richiedere di nuovo l'incontro sollecitare il nuovo l'incontro alla regione per capire cosa vogliono fare in modo tale che ci fanno una proposta e discuteremo su quella io penso che sia sbagliato tornare indietro e credo che occorra un nuovo ospedale con le dimensioni che c'erano prima magari finanziato diversamente non con il project se poi vogliono fare un'altra cosa ce la dicono e magari ci confronteremo su quella sull'aspetto morfologico non continuiamo a dire cose non vere perché l'ospedale non è in collina ma è in pianura lungo via Lombroso cioè la via che poi arriva a Muraglia via Flaminia oggi c'è già l'ospedale ci sono altre strutture l'ospedale nuovo viene lì quindi non va in collina non si smanca nessuna collina non c'è nessun problema geologico questo è stato detto più volte lì davanti arriverà la strada fra l'altro finalmente sono ripartiti i lavori dell'interquartiere di Muraglia la marca multiservizio ha avviato il cantiere per lo spostamento dell'acquedotto arriverà l'interquartiere proprio lì davanti quindi è un luogo in questo momento non dico che sia il luogo perfetto ma il luogo migliore è più pragmaticamente è il luogo nel quale pragmaticamente si può realizzare qualcosa se riapriamo complessivamente sempre le discussioni ci rivediamo tra dieci anni qui non avremo fatto ancora nulla qua a parlarne l'ex consorzio al porto è tutto bloccato per una contestazione in corso ci sono delle novità? anche questa è una situazione abbastanza surreale mi hanno spiegato l'altro giorno i miei tecnici anche perché è una questione molto tecnica non amministrativa tanto meno politica sostanzialmente è stato rilasciato allora sul porto vige il piano regolatore del 1990 tutte le autorizzazioni date mi hanno fatto un conto che sono state rilasciate 20, 30, 40 autorizzazioni in questi anni negli ultimi decenni sul porto tutti alla luce del piano regolatore del 1990 noi ci siamo ritrovati quando siamo diventati sindaco una previsione al posto dell'ex consorzio agrario che è un luogo privato che era stato acquistato dai privati di residenziale primo piano commerciale e il resto residenziale noi abbiamo contestato come amministrazione quel progetto ritenendolo troppo impattante la mia opinione personale è che il residenziale sul porto non è una scelta urbanistica giusta perché? perché il nostro è un porto commerciale e un porto commerciale oggi siamo fortunati che si ristrutturano gli yacht ma se invece degli yacht si commerciava gli inerti la breccia come è stato per tanti anni coloro che andavano a abitare lì sarebbero stati i primi a fare il comitato contro le polveri sottili quindi la residenza prevista al porto a me non mi ha mai convinto però è una previsione di un piano regolatore passato come tante devo prenderne atto abbiamo cercato come amministrazione di ridurre la volumetria delle previsioni urbanistiche abbiamo portato una delibera in consiglio comunale questa delibera è stata impugnata dai privati hanno fatto ricorso al TAR e hanno vinto il ricorso al TAR quindi il TAR ci ha detto ha detto ai nostri funzionari rilasciateli alla svelta il permesso di costruire perché voi è troppo tempo che bloccate il permesso di costruire a quel punto i nostri uffici hanno fatto comunque una mediazione sulla volumetria nonostante che avessimo perso al TAR e è stato ridotto in altezza in alcune dimensioni diciamo la struttura non come io volevo ma ovviamente il TAR ha dato ragione a loro e quindi non potevo fare altrimenti a quel punto hanno rilasciato il permesso di costruire dopo tre anni i privati nel frattempo hanno venduto fra di loro credo che siano stati due passaggi dai privati hanno demolito finalmente una roba che era inguardabile perché era una cosa inguardabile nel porto di Pesaro la Capitanera di Porto ha posto dei problemi perché secondo loro la procedura da seguire non era quella era un'altra il piano regolatore era quello non era un altro fatto sta che ovviamente adesso la situazione è bloccata in attesa di capire come ci si deve muovere i privati nel frattempo hanno venduto ci sono tante famiglie che hanno dato la caparra per l'appartamento che ovviamente chiederanno i danni a qualcuno i privati che hanno preso il permesso che hanno avuto il permesso di costruire immagino che chiederanno danni a qualcuno il comune ha già incassato gli oneri di urbanizzazione immagino che questi li richiederanno indietro c'è un pasticcio che non finisce più quindi ripeto una vicenda che adesso ha preso una via giudiziare c'è la procura che sta cercando di capire qual è lo strumento che andava definito però mi pare insomma letta così e mi pare una questione abbastanza surreale spero che il prima possibile si capisca come dobbiamo proseguire se non altro per dare certezze sia alla città ma anche a coloro che oggettivamente hanno delle aspettative legittime su quel luogo perché magari hanno fatto un acquisto o hanno dato una caparra per un'abitazione Sindaco ancora idee e progetti le chiedono che cosa ne pensa della proposta del Sindaco Cucchielli di una ferrovia che collega Pesor Urbino attraverso la Valle del Foglia che è quindi una metropolitana leggera dicevo che ma è un'idea molto suggestiva io penso che però prima noi dobbiamo fare la strada Pesor Urbino ci siamo visti qualche giorno fa col Sindaco Gambini con Cucchielli stesso il Sindaco di Montalabate di Petriano perché noi abbiamo una strada Pesor Urbino che non è adeguata per tenere collegati i due capoluoghi di provincia abbiamo lanciato questa candidatura di Città Europea della Cultura del 2033 e in vista del 2033 vogliamo legare alcuni progetti strategici con il Sindaco Gambini e con la provincia stessa abbiamo deciso di metterci la Pesor Urbino la Pesor Urbino che cosa significa? Significa il raddoppio della Montellabatese e in particolar modo la Bretella che supera da Morciola e arriva fino a Gallo di Petriano perché Gallo di Petriano tanti anni fa è stata fatta una variante che non ti fa più passare dentro il paese del Gallo ma più a valle noi passiamo dentro la Morciola dentro Cappone e questo ovviamente rende la strada non una strada di facile percorrenza e quindi allunga anche in tempi di percorrenza tra Pesoro e Urbino è un intervento complessivamente adesso stiamo facendo la provincia sta facendo il piano di fattibilità però stiamo parlando complessivamente di tutto l'intervento di circa 200 milioni di euro è una cifra consistente ma non impossibile soprattutto se la leghiamo alla candidatura di Pesoro Urbino Capitale Europea della Cultura e se la leghiamo alla prossima partita del Recovery Plan quindi siamo in attesa di un piccolo studio che sta facendo la provincia anche per aggiornare gli importi economici appena avremo questo chiederemo un incontro alla Regione all'ANAS al Ministero delle Infrastrutture per portare avanti questa battaglia mi sembra prioritaria perché oggi mentre Fano e Urbino sono collegate ad una superstrada dalla E78 Pesoro e Urbino sono collegate dalla Montella Battese e da una strada che in parte è una strada interna qual è l'occasione? L'occasione è che la Montella Battese non è più della provincia ma è diventata dell'ANAS come il resto della strada e quindi essendo diventata una strada statale secondo me adesso abbiamo più possibilità di trovare quelle risorse perché 200 milioni nel bilancio della provincia erano impossibili da trovare nei comuni ancora peggio mentre invece in un bilancio dell'ANAS se la mettiamo tra le priorità infrastrutturali di questa provincia e di questa regione nei prossimi anni può essere una sfida da vincere verso il 2033 sperando appunto di diventare capitale europea della cultura Quando si farà il proseguimento di Vede gli Abiti che si aggancia alla rotatoria del lobby? Questa è un'altra cosa che deve essere completata abbiamo molti lavori in corso devo dire che stiamo cercando di favorire di lavorare il più possibile per snellire le procedure mettere al lavoro i lavori pubblici abbiamo portato a Pesaro tantissime risorse europee statali e sono convinto che in questo 2021 ne porteremo altrettante il problema è che dobbiamo riuscire a spenderle e fatichiamo a spendere le risorse che abbiamo per fare gli investimenti le procedure sono lunghissime a mio parere c'è da dare più gas dentro la struttura pubblica io mi lamento spesso su questo anche se devo dire che ho dei collaboratori molto validi però vorrei un comune più veloce più snello abbiamo bisogno di correre abbiamo bisogno di fare la legislatura tra l'altro corre veloce perché già siamo nel 2021 finisce nel 2024 e quindi è chiaro che soprattutto i lavori più importanti se non riusciamo a farli a partire velocemente li vedranno i prossimi amministratori però oggettivamente tutti i sindaci vorrebbero vedere realizzate più cose possibili di quelle che hanno messo in campo e soprattutto che hanno finanziato ci stanno arrivando diversi messaggi su questo è il caso di controllare le vie del centro da tutto lo sporco che i canni stanno provocando colonne e monumenti che cambiano colore per l'urina poi altri ci segnalavano uno slalom che è necessario fare in Viale Trieste se non ricordo male l'avevo letto poco fa esatto in Viale Trieste ci sono questi tipi di controlli prima del covid avevamo voluto verificare anche questa storia del DNA poi capite quando è arrivato il codice sono state altre le priorità sinceramente non siamo riusciti più a pensare alle cacche dei cani ci dispiace ma non è stata più una nostra priorità però è vero è vero è vero che c'è molta maleducazione che non è dei cani ma dei padroni che non puliscono io vedo tante persone devo dire che chi vuole coloro che vogliono bene al cane in genere sono quelli che puliscono di più coloro che vivono il cane così in maniera superficiale spesso e volentieri sono quelli anche che puliscono di meno sono tante le persone responsabili però poche persone irresponsabili sporcono la città ed è davvero brutto camminare schivando escrementi o come dire vedendo sporchi magari alcuni angoli della città con l'urina degli animali basta portarsi dietro un sacchettino e una bottiglietta d'acqua non è complicatissimo se uno vuole bene al cane credo che con facilità può svolgere anche questo le multe è difficile farle perché le devi prendere nel fatto ovviamente non è facilissimo anche se alcune sono state fatte la cosa più importante potrebbe essere questo meccanismo del DNA che costa molto però in alcune realtà l'hanno fatto con il contributo dell'azienda sanitaria dell'Asur però sinceramente capite io non me la sono sentita in questo anno di covid di andare a chiedere all'Asur di darci una mano a cercare il DNA dei cani lo faremo appena il covid sarà superato speriamo nel frattempo che i pesaresi si comportino con maggiore responsabilità anche su questo tema il sindaco Ricci sostiene su consiglio degli agronomi che in via di Triesta a Pesaro non è il caso di piantare le palme per via della bora a Fano alla cavea del Lido che cosa pianteranno le palme ed è vero insomma cercheremo di capire anche a Fano perché hanno annunciato sarà un esperimento quindi alla fine se a Fano reggerà reggeranno vuol dire che lo farò anche a Pesaro ma arrabbierò con gli agronomi che mi hanno detto che non tengono valuta prima che cosa succederà a Fano caro Matteo abbiamo in città diverse brutture tipo Villa Marina i vari impianti le due casette fattiscenti nella prima curva della panoramica ma anche il carcere minorile che cosa state facendo per questo? Allora Villa Marina ci sono novità importanti perché stiamo trattando l'acquisto della parte sportiva nel senso che allora Villa Marina intanto non è del comune è dell'Inps lo ridico perché questi beni fattiscenti che vedete tranne uno poi dirò non sono del comune e quindi è più difficile per noi intervenire allora Villa Marina la novità qual è? Che scendendo su Viale Trieste la parte a sinistra quindi non quella verso il mare l'altra quella sportiva la vogliamo comprare come comune Antonello Delle Noci sta trattando con Inps il prezzo speriamo entro il fine marzo di concludere l'operazione perché a noi interessa fare il parcheggio come abbiamo sperimentato l'anno scorso nell'area dove c'erano prima qualche anno fa c'era il campo da calcio e i campi da basket è un'area oggi tutta cementata e abbiamo già fatto il parcheggio temporaneo l'anno scorso noi vogliamo farlo definitivo perché lì un parcheggio gratuito è fondamentale per la zona mare e la zona porto soprattutto nel periodo estivo la parte invece sportiva dove c'era la palestra quella la metteremo a bando quindi faremo un bando e coloro che vorranno rigestire l'area sportiva potranno fare un'offerta ci sarà un bando pubblico presumibilmente nel mese di aprile in modo tale che prima dell'estate si possa riaprire per lo sport quell'area e quindi speriamo che ci siano diversi interessamenti che possano partecipare la parte invece lato mare la vecchia colonia l'IMS proverà di nuovo a fare una vendita credo che gli incentivi che ci sono bonus facciate sisma bonus eco bonus al 110 renderà più appetibile questa volta la gara che faranno per la vendita della zona e al tempo stesso invece noi avremo bisogno della palazzina di Pesaro Studi l'ex palazzina di Pesaro Studi perché avremo bisogno lì di spostare temporaneamente la scuola Dante Alighieri nella scuola Dante Alighieri la faremo nuova abbiamo fatto nuova la scuola media di Via La Marmora faremo nuova la scuola media di Dante Alighieri abbiamo già i soldi tutto per almeno un anno dovremo spostare la scuola in un altro edificio e quindi abbiamo chiesto all'IMS se possiamo utilizzare Pesaro Studi per ospitare la Dante Alighieri per un anno anche perché la Dante Alighieri assoria diciamo è di là del porto in linea d'aria quella palazzina è la palazzina più vicina in modo tale da non creare troppi problemi anche alle famiglie che in genere vanno in una scuola non sempre ma soprattutto se è più vicina alle loro abitazioni quindi questo è Villa Marina cos'erano le altre cose che chiedevano? ci sono due casette fattiscenti sulla panoramica lì abbiamo fatto le ordinanze quelle sono private e quelle gli rifaremo l'ordinanza antidegrado e le abbiamo fatte tante quelle sono private poi? vuole sempre quello lì? quel messaggio lì? se voglio rispondere a tutti se non abbiamo tempo sennò spero che basti Villa Marina è il carcere il carcere minorile il carcere minorile invece è del comune della provincia ci sono dei vincoli in una parte che ancora non ci hanno permesso di venderla siamo stati fermi perché la regione sembrava che ne avesse bisogno per allargare il centro per l'impiego invece non ne ha bisogno e adesso venteremo in vendita anche quello a meno che vengano altre esigenze pubbliche che però nel frattempo non abbiamo individuato anche per quello ancora non abbiamo messo mano a Piazzale Primo Maggio quindi il ritardo sull'ex carcere minorile ci ha ritardato anche l'intervento su Piazzale Primo Maggio mentre invece di là di Piazzale Primo Maggio come i cittadini che passano lì avranno visto stanno andando avanti spediti i lavori sull'ex palazzetto dello sport il vecchio palazzetto dello sport e crediamo questo è il crono programma che per l'estate saremo in grado di inaugurare il nuovo auditorium o il nuovo pala Scavolini perché prenderà il nome della famiglia Scavolini siamo in chiusura quindi le andrò a leggere qualche messaggio uno dietro l'altro complimenti per aver portato avanti la battaglia per Giulio Reggini striscione compreso c'è chi appena entra in carica come sindaco dopo aver sbandierato le priorità per le città poi tolgono lo striscione medesimo come primo atto mentre dovrebbe essere una battaglia di civiltà di tutti i cittadini italiani l'ospedale di Fossombrone ancora sanità con tanto di diretta Facebook di Giorgia Meloni e Acquaroli che lo descrivevano come uno dei tanti disastri del centro-sinistra è rimasto esattamente come con gli stessi posti letto quindi utilizzato per la posta d'agenza covid come prima e nessuna prospettiva di ampliamento dei servizi un altro cittadino ci scrive sono un cittadino della provincia di Pesaro vorrei dire al sindaco che non tutti possono vivere in città chi vive nella campagna ha il diritto alla salute come chi vive a Pesaro è ingiusto volerci allontanare dall'ospedale abbiamo tutti gli stessi diritti quindi suppongo che abiti nell'entroterra è quasi impossibile non andare in Emilia-Romagna avere un'impegna attiva con urgenza 60 giorni per una risonanza magnetica parametrica nella regione Marche non è possibile prenotare questo tipo di esame purtroppo esempi come questo ce ne sono ce ne sono tanti caro sindaco complimenti per tutto quello che ha realizzato in questi anni per la sua città non si potrebbe candidare anche come presidente della regione prossimamente e qua chiuderei con questo messaggio perché ce ne sono tanti altri però mi piacerebbe avere una sua risposta ha detto ancora c'è qualche anno però ci penserà allora intanto la limite del del populismo è quello di evidenziare i problemi senza risolverli adesso quei problemi che hanno evidenziato negli ultimi 5 anni che li hanno portato bene perché la destra ha preso una marea di voti nelle aree interne quindi hanno vinto soprattutto nelle aree interne in particolar modo nella nostra provincia adesso voglio vedere cosa fanno voglio vedere quanti ospedali piccoli riaprono come raddoppieranno Fossombrone triplicheranno Sasso Corvaro quadruplicheranno Cagli vediamo vediamo se riusciranno a farlo vediamo con quali facendo riferimento a quale norme vediamo con quale risorse vedremo se faranno l'ospedale di Pesaro o ci fanno perdere anche questa opportunità vedremo se calerà la mobilità passiva per i motivi che diceva il telespettatore vedremo ovviamente ancora sono pochi mesi non possiamo giudicarli in pochi mesi però lasciatemi dire che i primi mesi non fanno ben sperare vedo molta confusione non una grande collaborazione istituzionale soprattutto con questa parte a nord delle Marche che vuole stare nelle Marche non vuole andare altrove quindi inviterei a trattare come gli altri territori diciamo l'inizio non è brillante non è brillante spero per i marchisani che il proseguo possa essere migliore per quello che riguarda invece Regeni oggi abbiamo lanciato un'altra battaglia che è quella per Zacchi perché è stato di nuovo prorogata la sua carcerazione di altri 45 giorni è una questione importante per la democrazia per coloro che credono nei diritti umani non a caso domani sarò a Roma con la mia associazione Autonomie Locali Italiane Ali e chiederemo ai sindaci già tanti l'hanno fatto autonomamente di arrivare almeno mille comuni per chiedere la cittadinanza italiana per Zacchi perché questo potrebbe aiutare anche nei rapporti italo-egiziani a riportarlo a casa a riportarlo nella sua Bologna anche se non è cittadino cittadino italiano tra l'altro vorrei anche ricordare che lei ha avuto un incarico importante da Zingaretti di coordinare un po' tutta l'attività dei sindaci quindi anche un orgoglio penso per lei sì è una bella bega però credo che io ho sempre pensato che i sindaci italiani in generale e i sindaci diciamo riformisti di centro-sinistra siano per la parte che politicamente rappresento un'energia fondamentale che spesso non è sotto i riflettori io sono uno dei pochi sindaci che ha i riflettori addosso ma ci sono tante esperienze locali che davvero sono straordinarie di persone molto competenti molto in gamba che rappresentano al meglio le loro comunità e che a mio parere devono diventare sempre più gruppo dirigente nazionale questa sarà la mia funzione senza però di nuovo ricreare un logoramento sul leader di turno perché io ho iniziato la mia attività politica diciamo da adulto che c'era Fassino segretario è stato eletto a Pesaro e dopo un po' che era eletto ho cominciato il logorio su Fassino poi è arrivato Veltroni è arrivato Veltroni e ha iniziato il logorio interno su Veltroni tant'è che si è dimesso nel 2009 poi è arrivato Bersani dopo un po' il logorio su Bersani poi è arrivato Renzi il logorio lunghissimo su Renzi poi è arrivato Zingaretti e abbiamo ricominciato anche con Zingaretti non se ne può più cioè è ovvio che un leader lo devi valutare quando ha finito il mandato è stato eletto nel 2019 finisce nel 2023 lasciamolo lavorare 4 anni e poi nel 2023 se non avrà fatto bene lo cambieremo vedremo come andrà magari si candiderà lei se non farà il presidente della regione mi state candidando un po' in troppi posti questa sera quindi io sto cercando come durante la professione che devo aver dimostrato di lavorare al massimo per la mia città per la mia provincia perché io ho molto a cuore anche la provincia di Pesururbino adesso mi sto interessando ancora di più perché quando io ero ho fatto il presidente della provincia cinque anni poi sono andato a fare il sindaco c'era Luca Ceriscioli che faceva il presidente della regione diciamo che avevo un po' affidato a lui agli assessori regionali anche la relazione con il resto del territorio adesso devo dire che l'ho ripresa in maniera molto forte con tutto il territorio perché è compito del comune di Pesururbino anche dare la giusta rappresentanza a tutti i comuni della provincia e al tempo stesso sto cercando di fare politica nazionale dando il mio contributo anche al mio paese e al tempo stesso sperando di rendere più competitiva la nostra terra perché ho letto in questi giorni c'è una cosa del Corriere Adriatico se lamentiamo che contiamo poco io devo dire che Pesuro in questi anni è contata di più rispetto al passato e quindi credo che se tutti lavoriamo insieme si possa far contare complessivamente di più anche il resto della regione grazie al sindaco di Pesuro Matteo Ricci per essere stato con noi e le auguro una buona serata grazie a voi grazie anche a tutti voi per averci seguito il regia Cristiana Guerra e Riccardo Sora l'informazione torna domani mattina con il direttore Marco Ferri che commenterà i quotidiani grazie arrivederci a domani grazie a tutti